Wewe ragazzi bentornati, oggi vedremo il direttore Riggs in persona Ebbene si, il direttore Riggs stava già nella nostra casa base Ha deciso finalmente anch'esso di unirsi alla nostra battaglia e si presenta Con il vantaggio standard le eliminazioni durante la costruzione estendono la sua durata di un secondo fino a un massimo di 10 eliminazioni Mentre come vantaggio comandante le eliminazioni durante la costruzione estendono la sua durata di 2 secondi sempre fino a un massimo di 10 eliminazioni Quindi è possibile aumentare rispettivamente la nostra abilità di alla costruzione come vantaggio standard fino a 10 secondi Mentre come vantaggio comandante fino a un massimo di 20 secondi Attenzione però che ciò richiede le uccisioni con appunto la stessa abilità Ciò significa che comunque la durata è variabile e noi cercheremo comunque di accorciare la cooldown il maggior tempo possibile Allora innanzitutto finalmente, posso dirlo? Finalmente abbiamo la possibilità di ridurre questa cooldown veramente infinita ulteriormente Anche se comunque non è un granché Però diciamo che 20 secondi in meno in molte situazioni potrebbe essere vantaggioso Se poi comunque andato a mettere nella build sono solamente 10 secondi Il che comunque non si noterà più di tanto diciamoci la verità Comunque ero è incentrato su appunto l'abilità alla costruzione Quindi di conseguenza andiamo a sviluppare una build su di essa E come funziona la costruzione? In pratica quando lo attiverete potrete utilizzare il martello con l'attacco primario per uccidere i nemici Ovviamente Mentre con il tasto dell'attacco secondario potrete fare tipo da scudo Cioè praticamente potrete fare proprio da scudo Utilizzerete lo scudo che avete sul braccio destro per mettervi al riparo dai colpi frontali Lo scudo chiaramente essendo frontale non si applica ai nemici che ci colpiscono da dietro Oppure dai lati E' quindi molto importante mantenere la visuale sul nemico e tenerlo diciamo dritto davanti a noi Molto utile in quei casi comunque che magari c'è quell'occhio bello che vi spara e voi avete tirato fuori l'abilità Visto che comunque è un'abilità che una volta attivata non potrete comunque far scomparire facilmente Anzi a meno che non moriate l'abilità comunque dovrete aspettare che si esaurisca E se posso dirla mia questo è un po' un difetto In quanto comunque al giorno d'oggi ci starebbe l'opzione di mettere in pausa un'abilità no raga? Nel senso che comunque durante il fight molte volte Anzi diciamo che comunque tutto il gioco di salva al mondo è un gioco dove serve parecchia mobilità Ed essere magari incastrati con l'abilità di alla costruzione in mano e non poter raggiungere i nemici Piuttosto che comunque magari cadere in un buco e non poter comunque costruire per risalire E quindi la non possibilità di mettere l'abilità in pausa mettiamola tra virgolette Questo difetto comunque si applica su molte altre abilità Ma sulla costruzione sinceramente lo sento parecchio più presente no? Tutto sommato comunque tutto fila liscio finché non vi spunta davanti uno col frigorifero in mano O almeno finché uno non è un problema li giamperete dietro e lo colpirete da dietro Ma quando iniziano magari a presentarsi in gruppo 3, 4, 5 tipi col frigorifero in mano Magari pure di fuoco vi applicano il tormento un paio di colpi e andrete a terra praticamente subito D'altro canto comunque molto utile quando vi pushano in massa Oppure quando ci sono quei pistoleri quelle streghe da lontano potrete mettere comunque lo scudo come vi dicevo prima Utilizzata contro uno smasher avrà comunque la capacità di stordirlo Utilizzata invece contro un miniboss epico beh dipende un po' dalle dimensioni del miniboss Ma in sostanza riuscirete a spostare uno smasher a spostare un cicciotto e a spostare anche un abietto semplice Quindi per magari buttarli giù dalla mappa piuttosto che ucciderli potrete combinare lo scatto taurino in più anche questa abilità E la terza abilità la rosy sempre utile per uccidere qualche nemico in più no? Piazzata magari sul tetto del rifugio piuttosto che comunque piazzata vicino a un obiettivo all'esterno di un tunnel In modo che comunque i pochi superstiti verranno chilati da essa Beh oltre tutto ciò è comunque anche un costruttore e come tutti i costruttori è in possesso della base Mi raccomando non dimenticatevi mai di mettere giù la base con un costruttore La build in questo caso è molto incentrata sulle abilità o meglio sull'abilità di alla costruzione Quindi il vantaggio di buone feste mi serve ovviamente per recuperarle più velocemente possibile Se no avrebbe comunque una cooldown molto lenta Poi la build risatina spettrale quindi willow perché vado ad incrementare i danni delle abilità Scudo rimbalzante che mi serve un po' da protezione quando vado ad utilizzare lo scudo e comunque blocco i nemici Infliggo danno ogni 5 colpi parati praticamente Distruzione di mostri arlenizza che oltre che fa recuperare la vita con le armi da mischia In questo caso ce le farà recuperare con alla costruzione proprio Subwaffer che poi va alternato un po' con il soldato Insomma quando gioco eliminare cogli non utilizzo il buffer ma utilizzo il soldato Che dopo tutta uccisione mi fa entrare in modalità totalmente rock Ed elizia ultraterrena per incrementare i danni contro i mostri della nebbia Ed è tutto qua ragazzi è un eroe molto semplice È un'abilità un po' difficile da utilizzare se devo essere sincero Perché comunque è un'abilità a doppio uso potete attaccare e difendervi Quindi va studiato bene quando attaccare e quando difendervi Allo stesso tempo come dicevo prima non è possibile muovervi liberamente durante la stessa abilità E considerando che comunque la sua durata molte volte magari è molto lunga Vi troverete per molto tempo magari bloccati in una certa situazione che è molto spiacevole Però in compenso è un'abilità molto molto forte se utilizzata bene Molto bello comunque il fatto di poter ridurre la cooldown ulteriormente Ma comunque ci servono per incrementare i danni di questa abilità no? O piuttosto che i danni diciamo qualcosa di più creativo sarebbe ancora più apprezzabile O meglio più che diminuire la cooldown siamo noi che andiamo a incrementare la durata delle abilità Ed è possibile incrementare la sua durata fino a che la nostra cooldown raggiungerà i 24 secondi al massimo Forse mi sono un po' frainteso in questo video eh Ma non lo so questa è la mia opinione ci tengo comunque a sapere la vostra qua sotto nei commenti Vi ricordo solo di lasciare un bel like al video per farlo vedere a quante più persone possibili È sicuramente un eroe che merita tanto anche solo come personaggio comunque della nostra sezione dei superstiti Perché è lì seduto che cura i nostri superstiti Diciamo che è un pezzo fondamentale di salvo al mondo non fatevelo scappare Ragazzi per oggi è tutto comunque io vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video Ci tengo comunque molto anche a sapere la vostra opinione ma questo ormai è molto scontato Vi ricordo che se volete supportare la crescita di questo canale potete inserire il codice KINUTV nell'itemshop di Fortnite E per oggi è tutto noi ci vediamo con il prossimo episodio Bella bella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.